A questo eccellente, disse Andrea Sperelli che stava in piedi, dietro la sedia di lei. Elena non poté trattenere un lieve sussulto. Prese il sardonio e lo diede a vedere, levando la mano all'altezza della spalla, senza voltarsi. Era veramente una assai bella cosa. — Potrebbe essere il centauro che Donatello copiò, soggiunse Andrea. E nell'animo di lui, insieme con l'ammirazione per la cosa bella, sorse l'ammirazione per il nobile gusto della dama che ora la possedeva. — Ella è dunque in tutto una eletta, pensò. Quali piaceri può dare ella a un amante raffinato? Con lei si ingrandiva nella sua immaginazione, ma ingrandendosi sfuggivagli. La gran sicurezza della sera innanzi mutavasi in una specie di scoraggiamento, e i dubbi primitivi risorgevano. Egli aveva troppo sognato nella notte, a occhi aperti, nuotando in una felicità senza fine, mentre il ricordo di un gesto, di un sorriso, di un'aria della testa, di una piega del vestito, lo prendeva e l'allacciava come una rete. Ora tutto quel mondo immaginario crollava miseramente al contatto della realtà. Egli non aveva visto negli occhi di Elena il singolar saluto a cui aveva tanto pensato. Egli non era stato distinto da lei in mezzo agli altri, con nessun segno. Perché? Si sentiva umiliato. — Vi consiglio questo orologio. Gli disse Elena con uno sguardo, di cui Eli dapprima non comprese la significazione. Era una piccola testa di morto, scolpita nell'avorio, con una straordinaria potenza di imitazione anatomica. Ciascuna mascella portava una fila di diamanti, e due rubini scintillavano in fondo alle occhiaie. Sulla fronte era inciso un motto, Ruit Ora. Sull'occipite un altro motto, Tibi Ippolita. Il cranio si apriva come una scatola, sebbene la commessura fosse quasi invisibile. L'interior battito del congegno dava a quel teschietto una inesprimibile apparenza di vita. Quel gioiello mortuario, offerta di un artefice misterioso alla sua donna, aveva dovuto segnare le ore dell'ebrezza, e col suo simbolo ammonire gli spiriti amanti. In verità, non poteva il piacere desiderare un più squisito e più incitante misuratore del tempo. Andrea pensò. Me lo consiglia ella per noi? E a quel pensiero tutte le speranze rinacquero e risorsero di tra l'incertezza confusamente. Egli si gittò nella gara con una specie di entusiasmo. Gli rispondevano due o tre competitori accaniti, tra cui Giannetto Rutolo, che avendo per amante donna Ippolita Albonico, era attratto dall'iscrizione Tibi Ippolita. Poco dopo rimasero soli a contendere il Rutolo e lo Sperelli. Le cifre salivano oltre il prezzo reale dell'oggetto, mentre i periti sorridevano. A un certo punto Giannetto Rutolo non rispose più, vinto dall'ostinazione dell'avversario. «Si delibera! Si delibera!» L'amante di donna Ippolita, un poco pallido, gridò un'ultima cifra. Lo Sperelli aumentò. Ci fu un momento di silenzio. Il perito guardava i due competitori, quindi levò il martello, con lentezza, sempre guardando. Uno, due, tre! La testa di morto rimase al conte d'Ugenta. Un mormorio si diffuse per la sala. Uno sprazzo di luce entrò per la vetrata e fece splendere i fondi aurei dei trittici, ravvivò la fronte dolente di una madonna senese e il cappellino grigio della principessa di Ferentino, coperto di scaglie d'acciaio. La duchessa di Scerni si levò per andarsene. «Addio, Sperelli!» disse. «A questa sera, forse. Perché dite, forse? Mi sento tanto male. Che avete mai?» Ella, senza rispondere, si volse agli altri, salutando. Ma gli altri seguivano il suo esempio. Escivano insieme. Il pensiero di non rivederla gli era insopportabile. Tutte le ore passate lontano da lei già gli pesavano e gli chiedeva a se stesso. «L'amo io dunque già tanto». Il suo spirito pareva chiuso in un cerchio entro cui turbinavano confusamente tutti i fantasmi delle sensazioni avute nella presenza di quella donna. Mentre saliva le scale del palazzo Zuccari per rientrare nel suo appartamento, gli balenava questo pensiero. «Ella, certo, sarebbe venuta là. La via Sistina, la via Gregoriana, la piazza della Trinità, dei Monti, specialmente in certe ore, erano quasi deserte. La casa non era abitata che da stranieri. Ella avrebbe dunque potuto avventurarsi senza timori. Ma come attirarla? La sua impazienza era tanta che gli avrebbe voluto poter dire «Verrà domani». «Ella è libera», pensò. «Non la tiene la vigilanza di un marito. Nessuno può chiederle conto delle assenze anche lunghe, anche insolite. Ella è padrona d'ogni suo atto, sempre». Gli si presentarono allo spirito subitamente interi giorni e intere notti di voluttà. Si guardò intorno nella stanza calda, profonda, segreta, e quel lusso intenso e raffinato, tutto fatto di arte e di piacque, per lei. Quell'aria aspettava il suo respiro, quei tappeti chiedevano ad essere premuti dal suo piede, quei cuscini volevano l'impronta del suo corpo. «Ella amerà la mia casa», pensò. «Amerà le cose che io amo». Il pensiero gli dava una indicibile dolcezza e gli pareva che già un'anima nuova, consapevole della imminente gioia, palpitasse sotto gli alti soffitti. Egli andò a vestirsi, nella camera ottagonale che era in verità, il più elegante e comodo spogliatoio desiderabile per un giovine signore moderno. Vestendosi aveva un'infinità di minute cure della sua persona. Sopra un gran sarcofago romano, trasformato con molto gusto in una tavola per avvigliamento, erano disposti in ordine i fazzoletti di Battista, i guanti da ballo, i portafogli, gli astucci delle sigarette, le fiale delle essenze e cinque o sei gardenie fresche in piccoli vasi di porcellana azzurra. Egli scelse un fazzoletto con le cifre bianche e ci versò due o tre gocce di pao rosa. Non prese alcuna gardenia perché l'avrebbe trovata alla mensa di casa Doria. empì di sigarette russe un astuccio d'oro martellato, sottilissimo, ornato di uno zaffiro sulla sporgenza della molla, un po' curvo per aderire alla coscia, nella tasca dei calzoni. Quindi uscì. L'invito al palazzo Farnese era per le dieci. Alle dieci e mezzo Andrea si trovava già là, aspettando. Aspettò molto. Le sale si empivano rapidamente, le danze incominciavano, nella galleria d'Annibale Carracci le semidie quiriti lottavan di formosità con le ariadne, con le galatee, con le aurore, con le diane degli affreschi. Le coppie turbinando esalavano profumi, le mani inguantate delle dame premevano la spalla dei cavalieri, le teste ingemmate si curvavano o si ergevano, certe bocche semiaperte brillavano come la porpora, certe spalle nude luccicavano sparse di un velo di umidore, certi seni parevano irrompere dal busto, sotto la vehemenza dell'ansia. — Non ballate, sperelli! chiese Gabriella Barbarisi, una fanciulla bruna come l'oliva speciosa, «Sì, più tardi!» rispose Andrea. «Più tardi!» La mazurca finiva, il gruppo disperdevasi, «Ella non viene! Ella non viene!» L'inquietudine interiore gli cresceva così fieramente che gli pensò di abbandonare le sale, perché il contatto di quella folla era gli insoffribile. Volgendosi, vide apparire sull'ingresso della galleria la duchessa di Scerni, a braccio dell'ambasciatore di Francia. In un attimo egli incontrò lo sguardo di lei e gli occhi di ambedue in quell'attimo parvero mescersi, penetrarsi, beversi. Ella s'avanzava nella istoriata galleria del Caracci, dove era minore la calca, portando un lungo strascico di broccato bianco che la seguiva come un'onda grave sul pavimento. Così bianca e semplice, nel passare volgeva il capo ai molti saluti, mostrando un'aria di stanchezza, sorridendo con un piccolo sforzo visibile che le increspava gli angoli della bocca, mentre gli occhi sembravano più larghi, sotto la fronte esangue. Ella s'avanzava così fra gli omaggi, avvolta dallo sguardo degli uomini. All'estremità della galleria si unì ad un gruppo di dame che parlavano vivamente, agitando i ventagli, sotto la pittura di Perseo e di Fineo inchietrato. Eran vi la Ferentino, la Massadalbe, la Marchesa D'Adi Tosinghi, la Dolce Buono. — Perché così tardi? le chiese quest'ultima. — Ho esitato molto prima di venire, perché non mi sento bene. Infatti sei pallida. Giungevano dalle sale continue le prime note di un waltzer ungherese. I cavalieri si presentarono. Andrea poté finalmente offerire il braccio ad Elena e trarla seco. Aspettandovi ho creduto di morire. Se voi non foste venuta Elena io vi avrei cercata ovunque. Quando vi ho vista entrare ho trattenuto a stento un grido. Questa è la seconda sera che io vi vedo, ma mi par già di amarvi non so da che tempo. Il pensiero di voi unico incessante è ora la vita della mia vita. Egli proferiva le parole d'amore sommessamente, senza guardarla, tenendo gli occhi fissi dinanzi a sé ed ella le ascoltava nella stessa attitudine impassibile in vista quasi marmorea. Mi amerete voi? chiese il giovane. Ditemi che mi amerete. E la rispose con lentezza. Sono venuta qui per voi soltanto. Ditemi che mi amerete, ripete il giovane sentendo tutto il sangue delle sue vene affluire al cuore come un torrente di gioia. e la rispose forse e lo guardò con lo sguardo medesimo che la sera innanzi era a lui parso una divina promessa con quell'indefinibile sguardo che quasi dava alla carne la sensazione del tocco amoroso d'una mano. Poi ambedue tacquero ed ascoltarono l'avviluppante musica della danza che a tratti a tratti facevasi piana come un sussurro o levavasi come un turbine improvviso. Elena dopo poco aveva lasciato il palazzo farnese quasi di nascosto senza prendere congedo né da Andrea né da alcun altro. Era dunque rimasta al ballo appena mezz'ora. L'amante l'aveva cercata per tutte le sale a lungo e in vano. La mattina seguente egli mandò un servo al palazzo Barberini per aver notizie di lei e seppe che la stava male. La sera andò di persona sperando ad essere ricevuto ma una camerista gli disse che la signora soffriva molto e che non poteva veder nessuno. Il sabato verso le cinque del pomeriggio tornò sempre sperando e gli usciva dalla casa Zuccari a piedi. Era un tramonto paunazzo e cinereo un po' lugubre che a poco a poco si stendeva su Roma come un velario greve. Intorno alla fontana della piazza Barberini i fanali già ardevano con fiammelle pallidissime come ceri intorno a un feretro e il tritone non gettava acqua forse per causa di un restauro o di una pulitura. venivano giù per la discesa carri tirati da due o tre cavalli messi in fila e torme doperai tornanti dalle opere nuove. Alcuni allacciati per le braccia si dondolavano cantando a squarciagola una canzone impudica. Egli si fermò per lasciarli passare. Due o tre di quelle figure rossastre e bieche gli rimasero impresse. Notò che un carrettiere aveva una mano fasciata e le fasce macchiate di sangue. Anche notò un altro carrettiere in ginocchio sul carro che aveva la faccia livida e le occhiaie cave la bocca contratta come un uomo attossicato. Le parole della canzone si mescevano ai gridi gutturali ai colpi delle fruste al rumore delle ruote al tintinio dei sonagli alle ingiurie alle bestemmie alle aspre risa. La sua tristezza s'aggravò. Egli si trovava in una disposizione di spirito strana. La sensibilità dei suoi nervi era così acuta che ogni minima sensazione a lui data dalle cose esteriori pareva una ferita profonda. Le nuvole del tramonto, la forma del tritone cupa in un cerchio di fanali smorti, quella discesa barbarica d'uomini bestiali e di giumenti enormi, quelle grida, quelle canzoni, quelle bestemmie, esasperavano la sua tristezza, gli suscitavano nel cuore un timor vago, non so che presentimento tragico.